Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione e bentrovati al concetto appuntamento con l'informazione del Tg10, apertura del telegiornale che dedichiamo alle prossime amministrative previste a Gela. Forza Italia non ha ancora deciso il proprio candidato sindaco, il nome uscirà fuori tra poco, lo dice il coordinatore regionale degli Azzurri, il senatore Enzo Gibino, che domenica scorsa a Caltanissetta aveva proposto la candidatura di Pino Federico. Vediamo. Forza Italia Gela sfoglia la margherita per individuare il candidato sindaco alle prossime amministrative, il nome ancora non c'è, anzi ci sono dei movimenti in casa azzurra, lo dice il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Enzo Gibino. Per me tutti loro sono validi candidati a sindaci se non sindaci addirittura. Penso che lo possano fare nelle prossime ore, alcuni di questi hanno addirittura rimesso il mandato, hanno già ufficializzato che fanno un passo indietro, credo che tra oggi e domani possa avvenire da parte loro una scelta consapevole e di conseguenza possa partire la campagna elettorale. Il professore Pellitteri ha fatto un passo indietro rimettendo la scelta sul tavolo, la stessa cosa ha fatto Massimiliano Falvo, la stessa cosa ha fatto Ferracane, che era un ipotetico candidato a sindaco dell'area di Pino Federico, che proprio quel giorno ha ufficializzato il suo ingresso in Forza Italia, tra l'altro salutato dal presidente Berlusconi. L'unico che ancora è rimasto un po' perplesso è il candidato greco. Bartolo Scrivano non era al tavolo. So che ci sono in questo momento delle valutazioni, delle discussioni in corso con Scrivano, io non ho parlato con lui personalmente. Il senatore Gibino dice la sua anche sul candidato Maurizio Melfa. Laddove lui volesse sedersi a quel tavolo informale che si è creato domenica, anche lui partecipare a un progetto comune, certamente facendo un passo indietro potrebbe farne due avanti, ma sempre con il riconoscimento da parte degli altri. In Forza Italia, fatto il suo ingresso Pino Federico, si era addirittura parlato di una sua candidatura a sindaco. Io l'ho chiesto a Pino Federico di candidarsi e devo dire che a quel tavolo lo hanno chiesto in tanti. Evidentemente la sua autorevolezza, il successo, l'esperienza, il bagaglio di voti hanno spinto tanti a chiedere questa candidatura. Ho compreso che lui non vuole scendere in campo a Gela per motivi familiari, per voglia di dedicarsi ancora alla famiglia, di lasciare almeno uno spazio il sabato o la domenica per stare in famiglia, piuttosto che, come bene i nisseni sanno, nel caso di elezione a sindaco gli sarebbe sottratta qualsiasi ora di tempo alla famiglia. Ieri sera il co-coordinatore di Forza Italia, Vincenzo Pepe, il responsabile del club Forza Silvio, Ignazio Russo e Antonio Sammito, membro del direttivo organizzativo del partito, assieme a Tesserati e una decina di candidati, hanno organizzato una riunione al fine di permettere al coordinatore provinciale Michele Mancuso e al coordinatore regionale Enzo Gibino di individuare il candidato sindaco. Per la storia che contraddistingue Forza Italia si legge in una nota il candidato migliore Lucio Greco. Sicuramente gli altri candidati, Gioacchino Pellitteri, Massimiliano Falvo, Bartolo Scrivano e Maurizio Melfa, si legge ancora, sono persone che sia sul piano umano che su quello politico sono eccezionali, ma che comunque Lucio Greco abbia qualche credito in più rispetto a loro per il lavoro di grande oppositore svolto contro l'amministrazione uscente per tutte le battaglie sociali che si è intestato in questi anni. Forza Italia, scritto nel comunicato, vuole innescare un meccanismo virtuoso che premi chi lavora bene con coerenza e abbia l'attitudine al bene comune e all'altruismo. Lucio Greco, grazie alle sue battaglie per il sociale, l'ha dimostrato. Enzo Pepe pone anche un quesito perché il centrodestra si deve dividere a Gela, che è la patria di Crocetta e Renzi, dove Crocetta ha ricompattato tutto il centro-sinistra sul candidato Fasulo. Cambiamo argomento, parliamo dell'inizio dei lavori di realizzazione della pista ciclabile nel quartiere Macchitella a Gela. Vediamo. Sono iniziati questa mattina i lavori di realizzazione della pista ciclabile nel quartiere Macchitella. La pista sarà lunga quasi un chilometro e mezzo e attraverserà il cuore del quartiere da via Ferrandina fino a via Lecorte Maggiore. I lavori verranno completati nei prossimi 90 giorni e saranno realizzati dalla ditta Pesarini Group, che è stata incaricata dalla società Lucauto, committente dei lavori. La pista verrà realizzata come opera scomputo per la compensazione dovuta a seguito della realizzazione della concessionaria sorta nei pressi della statale 117 bis. Il costo di realizzazione ammonta circa 250.000 euro. Un'altra realizzazione, quantomeno cantiere che prende vita. Sono veramente contento perché la pista ciclabile era un'aspettativa della città ormai da tanto tempo, l'avevamo detto e eccola qui. I lavori si completeranno nel giro di qualche mese, ma devo dire che è veramente un bel lavoro, darà molto al quartiere, ma la città sarà la prima di una serie di piste ciclabili che vedremo nella nostra città, ma ovviamente per adesso ci godiamo questa e ringrazio la collaborazione dell'ufficio tecnico, ringrazio l'impegno dei progettisti perché ci tenevamo tutti. Adesso eccola qua. Un regalo che viene fatto alla città e un regalo che viene fatto sicuramente a tutti quei bambini e a quelli amanti dello sport che avranno uno spazio in più da percorrere in bicicletta. Scuole ancora più sicure grazie al finanziamento di oltre un milione di euro che il Comune di Gela riceverà dalla Regione Siciliana e quanto stabilito dal Decreto Regionale 791 del Dipartimento Istruzione e Formazione Professionale della Regione che assegna al Comune di Gela un importo complessivo di oltre un miliardo di euro per la realizzazione del progetto esecutivo, per la realizzazione delle scale di sicurezza in tutti gli edifici scolastici comunali presentato dal settore lavori pubblici nel 2013. Il biogas nel territorio della provincia di Caltanissetta. Quali prospettive e quale futuro? È il seminario organizzato dal Libero Consorzio di Caltanissetta nell'ambito del progetto veder legato alla valorizzazione energetica del biogas ottenuto da biomasse di rifiuti urbani, residui agricoli e industriali con tecnologie ad elevata efficienza energetica. L'appuntamento è previsto per domani alle 10 nell'ex chiesetta San Biagio a Gela. L'auditorium musicale del convitto Regina Margherita di Corso Vittorio Emanuele 197 a Gela porta il nome di Nannino Di Geronimo. Il maestro di musica scomparve nel 1969 all'età di 47 anni a seguito di un incidente stradale. All'intitolazione dell'aula erano presenti amici, allievi di Di Geronimo nato con la musica nel sangue, così ma più volte ripetuto da chi lo ha conosciuto. Nannino Di Geronimo era un musicista eclettico, suonava 4-5 strumenti, bravissimo al piano, alla fisarmonica e alla chitarra. Era eccezionale e straordinario. Sono due parole semplici ma secondo me raggruppano tutto quanto. Non so come ringraziare la cittadinanza gelese perché a distanza di 46 anni riuscire anche a manifestare questo affetto, questa gioia, questa partecipazione vuol dire che papà ha trasmesso veramente qualcosa. Non così solo con le parole ma soprattutto col cuore. Ho questa immagine di Nannino che per me era suonare con lui, era come giocare in serie A. C'è un particolare che mio padre è Nannino di Geronimo, così come lo chiamiamo noi, dovevo suonare con lui e si erano messi d'accordo per fare questa esperienza con Nannino. Poi è successo il fatto e quindi io sono rimasto così. Già ero tutto galvanizzato per poter suonare con il grande Nannino di Geronimo e poi... Però è un bellissimo ricordo perché guardarlo suonare in quella maniera con una fisamora, con il violino, con una chitarra... Era strepitoso. Nell'auditorium è stata allestita anche una mostra fotografica in chiave musicale preparata dal collezionista Franco Pardo. Geronimo stava con i ragazzi, li curava, li consigliava e tanta gente oggi ovviamente della mia età possono vantarsi di avere preso lezioni da lui, io non ho avuto questo piacere, questo onore, ripeto per questione di possibilità e mi affascinava molto il modo come suonava, la sua eleganza, la sua raffinatezza. Noi nel numero del Corriere di Gela lo abbiamo ricordato, soprattutto sottolineando queste doti, quella dell'eleganza, lui andava sempre in giacca e cravatta, elegante. Partecipato e interessante convegno domenica scorsa a Niscemi, promosso dalle sezioni della Fidapa di Gela, Niscemi, Caltanissette e Serra di Falco. Si è parlato di energie rinnovabili e pulite, tutela dell'ambiente del nostro territorio, associazionismo per la tutela della cultura e la promozione del territorio. È stato questo il tema dibattuto dai relatori Pietro Damiano Verdure e da Filippo Passare. I lavori sono stati coordinati dalla vicepresidente Fidapa del distretto Sicilia, Rosa Maria Lascola e dalle vicepresidenti di sezione Elsa Paro, Marisa Cirrone, Maria Lacigna e Carmela Ricotta. La signora della luce, Nanda Vigo, è il tema della conferenza che si terrà lunedì 27 aprile prossimo alle 18.30 al Museo archeologico regionale di Gela. L'iniziativa del convegno di cultura Maria Cristina di Savoia, relazionerà Aldo Scibona. Saranno esposti i quadri del pittore Salvatore Burgio. È giunto al suo felice epilogo il concorso di letteratura Racconta la tua storia d'amore promosso da Rosa Scudera di Divine Delizie in collaborazione con Ship Lab, CTS Palermo e il comune di Gela. 16 racconti finalisti, i vincitori sono gelesi. La commissione esaminatrice ha tracciato un bilancio dell'evento molto positivo. La presidente di giuria, Angela Incardona. È stato complicato scegliere componimenti più belli? No, non direi anche perché, devo dire che alla luce di quello che è successo, ogni giurato ha letto le storie d'amore singolarmente, ognuno per i fatti nostri. E alla fine, devo dire, il giudizio è confluito su questa bellissima storia d'amore che veramente si vede scritta col cuore in maniera scorrevolissima, piacevolissima da leggere, ma molto intensa. Daniela, una grandissima soddisfazione questa, noi siamo molto felici per te, congratulazioni. A chi dedichi questo premio e che cosa racconta questa storia d'amore? Il premio lo dedico, come ho detto anche sul palco, alla mia famiglia e a una persona in particolare. Niente, è una storia d'amore semplice perché credo che l'amore vero sia quello delle semplici cose, della quotidianità, un amore che dura anche nonostante una malattia possa rompere il contatto fisico, ma l'amore quando c'è è eterno ed è vero. Qual è l'amore che hai raccontato nella tua storia? Sì, questa storia parla di un pranzetto che avevo preparato per la fidanzata che con perizia mi ha trasportato in una ricetta importante come il filetto al pepe verde che ho preparato con tutta la cura del mondo, che però non è stato apprezzato. E quindi si gioca su questo equivoco e sul fatto che, diciamo così, quell'amore è finito per un piatto, per una ricetta. Non apprezzata. Esatto, non apprezzata e quindi ha vinto l'amore per la cucina perché poi di fatto è diventato il mio lavoro. L'amministrazione comunale ha sposato fin dall'inizio questo progetto promosso da Divine Delizie e avete messo a disposizione un premio per la vincitrice. Abbiamo preso un impegno a suo tempo e l'abbiamo assolto con molto piacere perché continuiamo a credere molto nei giovani talenti, nelle persone che si spentono, soprattutto donne, come in questo caso è avvenuto per Rosa Scudera che ha avuto questa bella idea nella imprenditoria e che attraverso l'imprenditoria ci aiutano a fare cultura. Rosa Scudera è l'ideatrice del concorso, racconta la tua storia d'amore che si è conclusa davvero con grande successo. Da dove è nata l'idea e qual è il connubio con la tua attività? L'idea nasce da una chiacchierata con Valentina Ferrigno, titolare del CTS di Valermo, perché pensavamo di fare qualcosa per questo territorio, per il rilancio del territorio, ma anche qualcosa che potesse in qualche modo rappresentare il percorso, il viaggio che abbiamo cominciato entrambe con le nostre attività. E quindi da lì l'idea di un bando, di un concorso. La mia attività praticamente unisce il cioccolato al vino, quindi questo matrimonio d'amore, un incontro che riesce a far emergere il meglio sia del cioccolato che del vino. Quindi anche lì c'è un incontro d'amore. Quindi questo incontro d'amore nella mia attività, la passione per il mio lavoro, il tutto diventa un concorso. Al prossimo anno? Sì, decisamente sì. L'Associazione Diabetici Eschilo di Gela organizza in collaborazione con l'Amplifon un convegno sul tema diabete, ipoacusia, prevenzione e terapia. L'incontro si terrà venerdì 24 aprile alle 17 presso l'auditorium della Scuola Salvatore Quasimodo. introdurrà e coordinerà i lavori il pediatra Cristoforo Cocchiara. Ci fermiamo, c'è la pubblicità tra poco. Restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale. Si terrà il prossimo 26 aprile al Palacossiga di Gela il convegno della Misericordia patrocinato dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione e dal Comitato Mondiale dei Congressi della Misericordia. L'annuale appuntamento che coinvolge gruppi, movimenti e singoli fedeli legati alla spiritualità della misericordia presenti in Sicilia, si inserisce nel contesto del recente annuncio del Giubileo della Misericordia. I lavori inizieranno alle 9.30 con la relazione di Roni Spuldaro, membro del Consiglio Nazionale del Rinnovamento Carismatico Cattolico del Brasile e del Vescovo di Piazza Armerina, Monsignor Rosario Gisana. Alle 12 è previsto un momento mariano con i giovani e i bambini presenti e l'atto di affidamento al cuore immacolato di Maria. Alle 15 ci sarà l'adorazione eucaristica nell'ora della misericordia presieduto da Don Pasqualino di Dio, assistente spirituale della Fraternità Apostolica della Misericordia e le testimonianze di Don Primo Poggi, rettore del Santuario della Divina Misericordia di Caserta, dell'attore Pippo Franco, di Eleonora Daniele, conduttrice di Uno Mattina e di Salvo La Rosa, conduttore televisivo di Insieme. La solenne celebrazione eucaristica che conclude il convegno sarà preseduta dalla Cardinale Salvatore De Giorgia, arcivescovo emerito di Palermo. Continuano gli appuntamenti inseriti nel cartellone per la festa di San Giuseppe promossa dalla Chiesa Sant'Agostino di Gela. Domani, 26 aprile alle 9.30, sono previste le fasi preliminari di un torneo di calcetto presso il campetto di Macchitella. Alle 15.30 si giocheranno le fasi finali. Alle 18.00 apertura dei festeggiamenti con suono festoso di campane e spari di mortai. Alle 19.00 la messa. Adesso vi proponiamo un'intensa intervista all'attore carbarettista David Simone Vinci che prima di tutto però è un infermiere che per nulla al mondo rinuncerebbe ai suoi pazienti. Sentiamo. L'amore per i pazienti è rimasto vivo ancora oggi, come il primo giorno di lavoro. Sempre, sempre. Vabbè, la laurea tanto non è il titolo che fa l'uomo ma è l'uomo che fa il titolo. E' orgogliosamente da 23 anni che io svolgo la mia professione di infermiere, lavoro con i pazienti oncologici e dico sempre che io esercito una professione e un mestiere che sono completamente opposti però congiungono a un solo obiettivo, il benessere altrui. E questo mi orgoglisce immensamente. Il tuo percorso quindi si è svolto sul doppio binario ma in realtà poi tutto confluisce nel donare. Donare qualcosa, un sorriso. I tuoi pazienti sicuramente saranno stati felicissimi e forse saranno guariti anche più in fretta. Ma do il mio supporto anche perché dico sempre bisogna vivere di amore. Il vero amore è il vero amare e dare, non è ricevere. Perciò io sia con l'arte sia con le mie prestazioni tecniche infermieristiche e conoscenze scientifiche mi metto a disposizione, dico sempre, sono un figlio della strada che nutre la propria anima giorno dopo giorno. Quanta osmosi c'è stata a proposito del tuo mestiere tra le due professioni, quella di attore e quella di infermiere, come l'una ha condizionato l'altra? No, grazie a Dio, sai, ci vuole un po' di, tra virgolette, organizzarsi la vita. Riesco anche a fare il papà, riesco a fare tantissime serate di beneficenza e ora sarò in politica da un tre anni a questa parte, sono in politica e sarò candidato alle prossime regionali. Questa è la cosa che ci tengo anche perché ne sentirete parlare tanto di David, perché David non ha bisogno di andarsene in politica per diventare qualcuno, perché grazie al pubblico siciliano è da vent'anni che sono sulla cresta dell'onda, ma voglio mettere a disposizione le mie conoscenze, la mia umanità, la mia disponibilità e le mie competenze a 360 gradi per la mia amata Sicilia. Però possiamo dire che le due professioni sostanzialmente dialogano fra di loro e l'ispirazione ti arriva per i tuoi pezzi comici più belli anche dall'ospedale, è bellissimo. Soprattutto della vita di ogni giorno, perché noi siamo tutti dei cabarettisti, non è vero che dice, ah lui, noi siamo tutti dei comici, ma io vi faccio un esempio proprio in diretta, l'altro giorno mi trovavo in un incrocio, due macchine tamponano, si parte una ragazza, ma perché non sono abiso? E' che staccio che ti piaceva la musica, perciò capito? Cioè non è difficile fare cabaret. Con il sorriso un saluto per gli amici di Canale 10 e torna a trovarci quando vuoi. Canale 10 io vi adoro come adoro tutti i siciliani, perché grazie a voi Davide Simone Vinci e Davide Simone Vinci. Dico sempre, cerchiamo di essere altruisti, oggi abbiamo un grande valore, chi ha la fortuna di averlo, che è la salute. Pensiamo a salute, carosi, non ci focalizziamo nel materialismo e soprattutto viviamo di amore, il vero amare è dare, non ricevere. Da Davide Simone Vinci è tutto, ciao, alla prossima. Adesso parliamo di sport, della finale di play-off prevista per domenica prossima al Presti. In campo, atletico e Gela in palio, l'accesso alla finalissima, vediamo. Due squadre gelesi in finale, due squadre della stessa città, che domenica prossima al Vincenzo Presti si affronteranno per la quinta volta quest'anno e domenica c'è in palio un'intera stagione. Si giocherà infatti la finale play-off del torneo di promozione. Una sola alla fine proderà alla finalissima per l'accesso in eccellenza. Due storie diverse che in questo campionato di promozione hanno regalato emozioni a non finire e che adesso si contenderanno l'assalto di categoria nella massima competizione regionale. Una finale già scritta per molti tifosi e che sicuramente regalerà spettacolo sugli spalti, così come in campo. Il vicepresidente del Gela, Franco Giordano, ritorna sulla partita di sabato scorso, vinta col Santa Croce. Una vittoria importante, tre punti che consentono al Gela di approdare in finale. Ma direi tre punti obbligatori, in quanto ormai i play-off, la legge dice che si trascorrono solo in 90 minuti, quindi non c'è nessun ritorno. Quindi era per forza vincere o quantomeno pareggiare, ma al 120esimo naturalmente. È stata una vittoria maturata negli arco dei 90 minuti, perché nei primi dieci minuti il Gela ha giocato bene. Poi c'è stato un leggero calo, culminato con il pareggio del Santa Croce, ma il Gela visto nel secondo tempo è stato veramente un Gela arrembante che voleva a tutti i costi portare a casa la vittoria. Secondo me è un Gela che si è voluto un po' misurare, non accelerando troppo perché le temperature in due o tre giorni sono cambiate tantissimo, al che si sono inalzate almeno di 10-12 gradi, quindi bisogna un pochettino regolarsi per l'arco dei 90 minuti. Ai nostri microfoni il presidente dell'altretico Gela, Christian Paradiso. Per me è la prima volta che vivo questo playoff, è bella e emozionante perché comunque tre anni che sono presidente, quindi per me è stata una bella esperienza. Un'esperienza positiva che ancora oggi continua l'atletico Gela, è una squadra equilibrata. Il calcio è questo purtroppo, ci ha premiati anche con un gol di vantaggio e abbiamo in qualche modo vinto questa partita. Andiamo in finale ora con il Gela e ci andremo a giocare anche questa bella partita. Gela non ha né colori bianco-azzurri, né manco colori gelaro-rossi. Gela ha lo sport che è molto bello. È uno sport chiamato calcio, che a Gela è uno sport molto sentito. Quindi per me domenica deve vincere la migliore in assoluto e si deve meditare di vincere la squadra che comunque domenica cercherà in modo di segnare per primo. Io spero comunque nelle due squadre, anche il Gela calcio è una bella squadra, l'altra di con Gela non è di meno, quindi che vincere il migliore. Ancora un successo per la Ginnastics Club Gela preseduta da Walter Micicè. Al campionato di Serie D della Federazione Ginnastica d'Italia che si è svolto a Ragusa, le ginnaste locali hanno conquistato il titolo di campioni regionali 2015. Hanno gareggiato 24 squadre isolane nelle categorie parallele asimmetriche, volteggio, mini trampolino, corpo libero e trave. Ad aggiudicarsi questi importanti riconoscimenti sono state le atlete Roberta Costarelli, Deborah Guelli, Giulia Caruso e Alessandra Cascino. Seguite dagli istruttori Esther Greco e Luigi Di Tavi, prossimi 30 e 31 maggio è prevista a Gela la gara nazionale denominata Grand Prix del Mediterraneo della sezione cheerleading. Grandi soddisfazioni per gli atleti della Young Runner Gela al meeting che si è svolto a Siracusa in memoria di Giorgio Roccasalva, dirigente a Rutuseo, scomparso lo scorso anno. Oltre 500 partecipanti. Giorgia Di Vara ha vinto i 300 metri. Clara Tasca ha conquistato la prima piazza nei 3000 metri. Secondo posto per Samuele Licata negli 800 metri. Terzo nella categoria cadetti dei 1000 metri si è classificato Mario Bianca. Terzo posto anche per Sofia Iraci negli 800 metri. Adesso c'è le informazioni cinematografiche. The Search, il film in programmazione al Cineteatro Antidoto di Macchitella a Gela. Sono due gli orari di rotazione della pellicola, 18.30 e 21.30. Sabato 25 alle 21.30 e domenica 26 aprile alle 17.30. Al Teatro Comunale Eschilo, Tuccio, Musumeci e Guia, Ielo porteranno in scena a Ragoste di Sicilia per informazioni 0933 911892. Bene, tutto con lo spettacolo. Anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie a tutti voi per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci a domani. Grazie a tutti. Grazie per la visione!